Bentornato, bentornata su The Art of Playing. Ragazzi, non voglio fare il solito video dell'autore che ha pubblicato il libro, allora inizia a dire ecco le recensioni del libro che ho appena pubblicato. Questo non vuole essere un video del genere, anche perché io l'avrei già chiuso da questi primi 5 secondi se avessi capito che fosse un video del genere. Vuole essere un video soprattutto utile a voi, io credo sia uno dei più importanti di questo canale, quindi non ve lo perdete, guardatelo fino alla fine. perché sono quattro anni che questo libro è stato pubblicato e sono quattro anni che io non mi pronuncio, non leggo nessuna recensione, nessun parere su questo libro, quindi nel caso anche in cui voleste entrare in questo mondo, nel mondo di questo manuale che sono 350 pagine, lo trovate ovviamente, link in descrizione, questo è l'unico sponsor che farò, beh sappiate che in questo video magari troverete qualche risposta o qualche piccolo suggerimento per affrontarlo con la chiave di lettura giusta perché sicuramente tra le recensioni ci sarà qualcuno che non ha capito determinati contenuti oppure li ha capiti però vorrebbe un chiarimento in più. Ecco, allora qui troverete tutto prima ancora di acquistarlo, c'è la versione Kindle, la potete avere istantaneamente e costa se non sbaglio 5 euro, una scemenza, quindi potete guardarvi il video, poi cliccate il link nella descrizione e entrate in questo mondo che vi assicuro vale davvero la pena di sfogliare, ecco, perché sono orgoglioso di questo libro che ho scritto 4 anni fa e non ho mai letto le recensioni perché io sono discapito di quello che sembra nei video, molto sensibile, quindi non volevo rovinarmi, sai, la passeggiata con mia moglie, esco lì, sono con mia moglie e gli dico guarda questo qui mi ha scritto la recensione negativa, ecco, volevo evitare che succedesse tutto questo, quindi non ho mai letto le recensioni al manuale di, appunto, metodo di lettura pianistica. Oggi lo farò insieme a voi e quindi è un momento importante per me, sono passati 4 anni, vedo però già con molto piacere che entrando in questa pagina sono mantenute, si sono mantenute 4 stelle di giudizio, vi assicuro ragazzi per un libro che ha 4 anni di vita non è assolutamente scontato, vuol dire che davvero c'è stato qualcosa che voi avete reputato valido all'interno di queste pagine. Allora, iniziamo subito da Luca. Quando la passione conta, ragazzi le recensioni molto lunghe come questa, ovviamente farò una sintesi perché non so quanto verrà lungo questo video, ma sono 106 recensioni quindi le voglio leggere tutte una di fila all'altra. Allora, la musica è prima di tutto sentimento, questa è la filosofia dell'autore che con molte difficoltà e tanta pazienza è riuscito negli anni ad elaborare un metodo di studio del pianoforte che fosse semplice e chiaro. Questo manuale, per quanto non possa e non voglia sostituire i testi canonici dello studio di questo strumento, ragazzi questa è già una cosa importantissima. Per affrontare questo libro ovviamente ci vuole che voi abbiate accanto qualche manualetto, qualcosa almeno di citato nella bibliografia, scusatemi, del metodo di lettura pianistica, perché ovviamente da solo non si regge su, è un compendio, è una sintesi, no, di vari insegnamenti, di varie cose che ho imparato studiando, ovviamente tutte citate, ci sono le fonti di tutto quello che ho citato nel libro, nella bibliografia, però non è un testo che può essere preso come l'unico testo di pianoforte, sarebbe stata una pretesa anche assurda da parte mia. Ciò detto, si capisce che l'utilità di questo testo è nel porre concetti difficili in termini semplici, di modo che anche il più testardo dei muli, con la giusta dedizione e volontà nell'apprendere, potrebbe destreggiarsi tra gli 88 tasti del pianoforte. Una lettura che arricchisce e completa la manualistica classica. Qui, ecco, ha centrato proprio Luca il punto che è scritto anche tra l'altro nell'introduzione del libro. Richiede almeno una preparazione di base di teoria musicale, franco, e professionalità dell'autore. Giovanni, ottimi spunti, ottimi suggerimenti, ma interessante, ben scritto e scorrevole, ma è noioso. Una panoramica della musica ampia e facilmente fruibile. Ma se uno cerca un manuale con delle dritte e dei consigli tecnici, in questo libro trova solo suggerimenti che ti accompagnano sulla soglia. Beh, ci sono effettivamente vari contesti del libro, vari capitoli dove ci sono degli esempi pratici, però chiaramente non vuole essere un libro che ti porta fino alla fine del pianoforte, cioè fino alla fine dei consigli tecnici. Vuole essere, come da titolo, un'introduzione. E quindi troverete principalmente dei modi di leggere la teoria musicale, cioè di avere una visione sintetica, ma certo non ci sarà l'accompagnamento fino alla fine della tecnica pianistica. No, beh, questo approfondimento non sarebbe, insomma, centrato in un libro che già è venuto di 350 pagine, figuriamoci. Gianni Boni, quindi scusami, grazie mille, appunto, Giovanni. Gianni Boni, completo. Questo manuale mi è comparso come pubblicità qui su Amazon e dato il prezzo relativamente basso, l'ho preso Kindle sulla fiducia. Effettivamente, ragazzi, Kindle costa, credo, 5 euro, veramente una scemenza. Comunque trovate il link in descrizione. Sì, ragazzi, mi sponsorizzo un po', ma perché sono molto fiero di questo manuale e vedo che è stato anche considerato utile da voi, quindi perché non dirvi che, insomma, lo trovate istantaneamente e lo potete scaricare Kindle a un prezzo ridicolo. Premetto che non ho ancora finito di leggere il libro. Per adesso, al sesto capitolo, sono rimasto stupito dalla chiarezza e dalla completezza di questo manuale. Praticamente vengono assemblate tutte le fonti più autorevoli, Piston, Dubois, anche Rameau, in una traduzione molto recente del 2019, per la didattica, molto recente ovviamente, ragazzi, il libro è pubblicato nel 2020, quindi per lui era molto recente, per la didattica. Però vengono usate per fornire un metodo assolutamente originale e chiaro per iniziare a suonare. Quindi, secondo me, questo progetto, per la novità, merita, se hai l'attenzione e lascio 5 stelle. Grazie di cuore, perché Gianni è stato probabilmente uno dei primi che ha creduto in questo progetto. Egidio. Non mantiene ciò che promette nella pubblicità. Ragazzi, qua siamo di fronte alla prima recensione da una stella. Per chi ha fatto armonia e suona uno strumento non serve a nulla. Ci sono testi migliori. Ragazzi, ma questo è naturale. Si chiama introduzione alla lettura della musica, quindi ve lo dico col sorriso, non vi aspettate che ci... Insomma, se voi sapete già le cose che sono scritte sul libro, che vi possa essere utile. È impossibile, non funziona. Utile, ma premetto, a me è stato molto utile. Matteo, quindi abbiamo un omonimo, scusatemi. E se questo fosse il criterio di valutazione, darei 4 stelle, ma farò una recensione oggettiva. Questo libro non è assolutamente rivolto a neofiti o principianti. Contiene un riassunto eccezionalmente stringato di argomenti incredibilmente complessi, scrittura a quattro parti, movimenti, eccetera. E vista la taglia ridotta, va da sé che non vi sono esempi, esercizi e spiegazioni adeguate. E ragazzi, non ci sarebbe entrato. Molto spesso sono menzionati i termini mai spiegati prima e dati per scontati, ma che non lo sono affatto. In realtà qui, ragazzi, devo dire che io ho fatto particolare attenzione. Se notate nel manuale, i termini introdotti da zero sono in corsivo. Quel termine in corsivo poi ricorre nel testo, sempre scritto in corsivo. E il significato di quel termine viene spiegato la prima volta che viene menzionato. È una cosa a cui ho fatto estrema attenzione. Quindi mi dispiace che ci sia questa... che ci sia stato... che insomma si sia notato questo particolare. Probabilmente in qualche parte del libro ho messo qualcosa, mi viene da pensare. E a questo punto sarebbe bello che appunto Matteo mi dicesse dove, ecco, perché è veramente una cosa su cui ho fatto estrema attenzione. Molto spesso... ok, questo l'abbiamo letto. Paradossalmente risulta più facile studiare armonia. Sul più volte citato armonia di Walter Piston. Ragazzi, certo, è ovvio. Come vi dicevo, i testi tradizionali non è che si possono saltare. Questo è un riassunto, ma non vuole andare a sostituire armonia o solfeggio in conservatorio. Ma non è qualcosa neanche che uno potrebbe pretendere, penso da nessun manuale. E' una pratica fondamentale quella dell'armonia e quella del solfeggio. Però accanto a questo può aiutare a fare una sintesi, un manueletto del genere. A me è stato molto utile proprio perché l'ho usato come ripasso di armonia di Walter Piston. Ecco, è questo appunto il studiato mesi prima. Inoltre sto imparando a suonare già da un paio d'anni una buona base di teoria. Se fossi stato un principiante non avrei capito molto. Più utili capitoli sulla tecnica verso la fine dove ho trovato effettivamente nozioni che altrove mi erano sfuggite. C'è una parte finale in cui Matteo effettivamente rivela che l'intento per cui era stato scritto questo libro ha funzionato, insomma è arrivato anche a lui. E però c'è questa prima parte in cui evidentemente forse lui si aspettava proprio un manuale di armonia o qualcosa che andasse a sostituire i testi tradizionali. Ma non è assolutamente il caso di questo libro. Riccardo Gentile, innovativo, testo che unisce alla sintesi di diverse prospettive teoriche Dubois-Rameau, per fare qualche esempio, un approccio originale ed inedito di studio al pianoforte. Permette di consolidarne i fondamenti ma anche di affrontare le basi della lettura ampliando le proprie possibilità di analisi e metodo durante lo studio. Dal mio punto di vista testo adatto anche a un percorso formativo in conservatorio. Beh, grazie, insomma mi lusinga quest'ultima frase. Cliente Amazon, qui non c'è il nome. Bello ma solo teoria. Bello per la teoria, speravo ci fossero anche gli esercizi. In realtà esercizi ci sono, eh ragazzi. Adesso da queste recensioni sembra che il testo non abbia nessun tipo di esercizio. Ma in realtà sì, ci sono gli esercizi. Certo, sono estremamente stringati. Questo sì, non ce ne sono 3000 per ogni pagina. Però diciamo che ogni pagina ha anche un suo esempio, una sua spiegazione grafica, ecco, che puoi suonare, su cui puoi esercitarti. Io ragazzi adesso non mi ricordo dove ero. Bello ma solo teoria eravamo qua. Allora, non proprio facile. Viste le premesse mi aspettavo un manuale meno difficile. Gli accenni storici e i capitoli iniziali sono un po' complicati per chi ha poche basi pianistiche. E qui, ragazzi, come vi dicevo, non basta il libro da solo. Non basta il metodo di lettura pianistica da solo. Dovete studiare a parte, studiare sul pianoforte, studiare sul feggio, studiare l'armonia. E il metodo vi serve per dare una forma un po' più precisa, per andare a levigare, no? Avrei auspicato di leggere un volume molto pratico con svelati i segreti per imparare a velocizzare la lettura dei singoli nomi di nota. Beh, questo, ragazzi, questo c'è nel libro. Questo c'è assolutamente. E caspita, le prime pagine fino a pagina 40-50 sono proprio questo. Sono segreti per imparare a velocizzare la lettura dei nomi delle note. Stefano Del Monte Tutto ok, sia spedizione che prodotto. Non è un libro per principianti, ma per pianisti di medio livello. Ottimi spunti su cui riflettere e approfondire. Più che un manuale, un saggio. Beh, qui effettivamente c'è un duplice intento. È sicuramente un saggio, da una parte, perché, come vi dicevo, prendo tante informazioni e vi do quello che per me è stato il senso di quelle informazioni che ho ricevuto, quello che a me è servito per imparare a suonare. Ma c'è anche la parte manualistica, c'è anche appunto la parte di esempi, di esercizi. Non mancano. Sconsigliato se si vuole solamente imparare a leggere, soprattutto ai neofiti. Ragazzi, qui siamo invece su una recensione negativa. Due stelle. Partiamo dal fatto che il libro dovrebbe spiegare un metodo per la lettura pianistica. Immaginavo dunque che ci si concentrasse sul fatto del saper leggere gli spartiti e suonare. Beh, spero che sì. Io mi sono concentrato su quello nel libro. In realtà, a partire dal secondo capitolo diventa un riassunto fatto dall'autore dei suoi anni di studio. Guardate, vi assicuro, compratelo a questo punto, vi dico proprio compratelo. Andate nella descrizione, andate sul Kindle, lo prendete istantaneamente, 5 euro. E andate, ditemi nei commenti qui sotto, se io parlo una sola volta, una sola volta, di quello che è stato il mio percorso di studi. Non credo di averne mai parlato nel libro, anzi ne sono sicuro. Forse ho nominato una volta il Conservatorio di Novara, ma perché mostravo uno strumento che è stato fotografato nel Conservatorio di Novara, dove io ho studiato. Ma non credo che questo significhi di parlare dei miei anni di studio. Cioè, sembra da questa recensione che io nel libro abbia scritto io, quando sono entrato in conservatorio ero stanco di fare... Cioè, no ragazzi, questo non c'è ovviamente nel libro. Però, non so cosa intenda qui. In realtà, a partire dal secondo capitolo... Ecco, ok. Peraltro, di argomenti di non facile comprensione. Per carità, è notevole se si pensa che a scriverlo sia stato un ragazzo di 24 anni. In realtà però ne avevo 23. Così. Ma non soddisfa assolutamente le aspettative. Le recensioni positive provengono evidentemente da gente che la musica la conosce già molto bene. Sconsiglio questo libro a qualsiasi neofita. No ragazzi, io non ve lo sconsiglio. È un libro che è stato utilissimo a centinaia di miei studenti. Centinaia. Quindi, no, io non ve lo sconsiglio. Ve lo consiglio. Ovvio che, ripeto, non deve essere il vostro unico libro, perché se no non ci capite niente. Ma è chiaro, è come se io andassi su, non so, un saggio scritto da Einstein su un determinato argomento della matematica. Non mi voglio paragonare ad Einstein. È un paragone che non funziona. Paragoniamoci a, insomma, uno studioso avanzato, ecco, questo volevo intendere, che scrive qualcosa su uno studio che ha fatto di un argomento, di un libro, e voi andate direttamente a leggere lo studio di questo autore, che, insomma, ovviamente ha cercato di dare una panoramica ampia, avanzata, no, di quello che ha studiato, di quello che ha letto. Delle dritte che vadano oltre quello che potete già leggere sui manuali, no? Altrimenti a che serve? Sarebbe un doppione. Cioè, di manuali per iniziare da zero l'armonia ce ne sono già. Piston è uno di quelli. Sarebbe stato inutile scrivere un altro manuale di studio dell'armonia. Cioè, non funziona. Diesis è il nome di chi ci fa questa recensione. Si poteva scrivere meglio. Non di facile lettura, andava curato su molti argomenti, ma valido per affrontare l'argomento lettura. Formato del libro piuttosto scadente. Questo, ragazzi, è proposto da Amazon, però devo dire che è la prima recensione in cui vedo una lamentela di questo tipo. Altra recensione negativa. Mi sa che si sono accumulate tutte per prima. Il libro non è assolutamente adatto ai neofiti. Difficile comprensione per chi qualcosa già mastica. Non mi sembra semplice né utile per sviluppare un metodo efficace. Ho apprezzato la seconda parte relativa alla postura, alla meccanica del pianoforte e del suonare, ma con un'esposizione forbita che non è adatta a tutti. Quindi qui il problema è stato più che altro l'esposizione. Celestino, imparare la musica con il metodo delle immagini e dell'apprendimento rapido. Metodo innovativo che utilizza le stesse tecniche utilizzate per l'apprendimento veloce di Matteo Salvo e Gianni Golfera, qui Golfera, anche se ha scritto Gilfera, ma effettivamente sono tecniche che nomino anche nel libro. Ed altri che spiegano come utilizzare tutti i nostri sensi per apprendere meglio. Libro super consigliato. E qui si centra un altro punto, secondo me, di forza di questo libro, che non vuole essere io ti spiego l'armonia o il solfeggio da zero, ma questo. Cioè, una tecnica per apprendere, una chiave di lettura. Rita Mitidieri. Istruttivo. Interessante. Sto leggendo. Bene. Rita, speriamo che... Insomma, adesso siamo nel 2024. Intanto mi arriva la notifica che devo andare in palestra. Speriamo che il testo ti abbia soddisfatto, insomma, come allora. Avrai finito ormai di leggerlo, immagino. Alessandro. Costo, praticità e completezza. Il testo si presta a una lettura idonea ad ogni strumento. Il formato consente di averlo sempre a disposizione. Gli argomenti sono esaustivi e chiaramente illustranti. Consigliatissimo. Libro adatto a tutti. Ottimo acquisto. Libro molto chiaro. Semplice anche per chi ha le basi. Ne consiglio acquisto. Vedete, ragazzi, ci sono pareri contrastanti. Vincenzo ci dice che è chiaro e semplice per chi ha le basi. Ci sono altri che invece nelle recensioni negative scrivono No, ma guardate che per chi ha le basi questo libro non va bene. E questo... È strano. È strano perché effettivamente forse il problema è proprio come si legge il libro. C'è chi magari si aspettava un manuale di solfeggio e invece chi, come Vincenzo, si aspettava delle tecniche di apprendimento. È una chiave di lettura. E forse la diversità nella recensione dipende anche molto da questo. Simone Benedetti, autore bravissimo. Complimenti all'autore. Giovane, disciplinato, preciso, rigoroso. L'amirabile gioventù studiosa di Bach. Che bello questa recensione, bellissima. Molly, utile a prima vista. Mi sembra molto utile. Bene, grazie Molly. Roberto Peschi. Metodo di lettura pianistica. Ottimo manuale. Scritto con maestria e buon senso. Bravo, bravo. Grazie Roberto, di cuore. Interessante ma complesso. Libro che spazia attraverso gli argomenti. Condensa molti concetti in poche pagine. Interessante e sufficientemente chiaro. Grazie, Manu. Pierre, interessantissimo, pratico, chiaro, efficace. Si potrebbe riassumere così brevemente il mio pensiero su questo manuale. L'impressione che ho avuto leggendo questi capitoli è quello di avere un insegnante di pianoforte a portata di mano. Da tirar fuori dalla tasca nei momenti di difficoltà. Che bella questa metafora. Un profondo respiro, una cosciente lettura delle pagine e tutto è più limpido. Wow, ragazzi, questa recensione è poesia, poetica. Sono rimasto un po' sorpreso da alcuni recensori che sostengono sia un libro poco pratico. Io invece credo che questo manuale sia tutto il contrario. Non sono sufficienti esercizi dimostrativi per rendere qualcosa davvero pratico. Di certo non più di un testo come questo che ti spiega passo passo come approcciare qualsiasi spartito tu abbia davanti attraverso semplici metodi che le mie dita reputano proficui. Ragazzi, bellissima. Questa recensione è veramente poesia. Emanuele. Questa è una recensione recentissima. Recentissima. 13 giugno 2023. Una delle ultime, ragazzi. Venuta proprio dal nulla. Recensione negativa. Voglio constatare che il libro in questione sia un'assoluta vergogna. Ragazzi, addirittura. Una raccolta senza scrupoli di tecniche rubate e plagiate da autori senza alcuna attribuzione. Ragazzi, io mi fermo qua a leggere questa recensione. Perché, innanzitutto, dire che il mio libro sia una vergogna non è carino. Anche perché molti l'hanno trovato utile, quindi non vedo perché dire una cosa del genere. Ma poi, dire che non c'è nessuna attribuzione rispetto a quello che io ho scritto è veramente una falsità. Perché alla fine del libro c'è la bibliografia dove tutto quello che ha citato nel libro viene col numerino sopra. Io copio, metti caso, la frase, metto il numerino e dico questa frase è tratta dal manuale di Walter Piston. Ma ragazzi, vi serve? Se no, come fate, io vi sto spiegando il Walter Piston e vi dico, nel Walter Piston c'è scritta questa frase. Però la frase non la metto perché... perché se no è plagio. Ma non è plagio, ragazzi. Tutte le ricerche sono scritte in questo modo. Ehm... Veramente... Ma quanto è lunga questa recensione... No, ma ragazzi, ma qui non ci siamo. Marisa Grova. Scritto molto bene. Ho trovato questo libro cercando un manuale che potesse aiutarmi ad introdurmi dolcemente nel mondo della musica. Prima di questo ho provato a studiare su altri manuali che sì, erano professionali, ma nessuno ti segue e ti spiega passo passo ogni argomento come se fosse una lezione frontale. Scorrevole completo. 5 stelle per la precisione, il convolgimento e la chiarezza. Un manuale che meriterebbe di essere adottato nei conservatori. Bellissimo. Grazie, Marisa. Alessandro Scafati. Scritto veramente molto bene, molto comprensibile. Ho letto... Ho iniziato la lettura di questo libro da principiante e adesso sono Chopin. Sì. Beh, ragazzi, ci sta anche un po' di... di umorismo, evidentemente. È dedicato a tutti gli appassionati del pianoforte. Paolio 49. Ottimo libro, molto utile per chi sta iniziando col pianoforte e anche per chi è già avanti con gli studi. Bella questa... questo duplice aspetto. Effettivamente va bene per tutti e due. Effettivamente sì. perché chi è avanzato ci può trovare qualcosa di spiegato in maniera forse più sintetica, più tagliata. Chi è principiante invece legge un manuale, va sul metodo di lettura pianistica e dice ah sì, non so, per esempio, argomento accordi. Ok. Più o meno dovrei arrivare a questo concetto qua. Vediamo come integrare le due cose, no? Si crea una sintesi per forza perché nel metodo è molto più stringato l'argomento. Marchi Filippo, davvero molto utile, libro ben scritto, molto utile, grazie. Filippo, ottimo testo, completo oltre che economico, molto utile per principianti. Edoardo, ottimo libro, sicuramente un ottimo testo, anche se non proprio facile per chi inizia con la musica. Un pupurri intricillito. Ragazzi, scusatemi, però adesso sono mezzogiorno e mezza, devo purtroppo scappare per andare in palestra. Io sono contentissimo che ci siano tutte queste recensioni positive. Come vedete, la maggior parte, quelle da 3, 4 e 5 stelle, fanno praticamente quasi l'80% delle recensioni. Quindi sono davvero contento che voi abbiate apprezzato e vi sia tornato utile un manuale del genere che davvero ha fatto tantissima fatica a scrivere. E devo dire che mi aspettavo molto peggio. Quindi, a parte quella recensione, un papiro di recensioni dove si dice che io addirittura sono scritto una vergogna, che ho plagiato le cose, quella recensione è veramente stata un punto molto basso di questo video. ma spero che continuino le recensioni positive, i pareri costruttivi, reali, qualcosa di vero che possa aiutare anche magari a migliorare il libro. Perché chi lo sa che non venga pubblicata una seconda edizione con degli esercizi. Per esempio, io ci sto pensando. Ci sto pensando a fare magari un manuale a parte con gli esercizi. E se voi mi lasciate una critica costruttiva, anche sotto a questo video magari, o una recensione positiva, in cui andate positiva, nel senso che mi dite davvero quello che secondo voi è il punto di forza del libro, no? Quello che magari secondo voi potrebbe essere cambiato, beh, qui ovviamente raggiungiamo qualcosa che nella seconda parte del libro può esservi concretamente utile, no? Se con la parte degli esercizi andiamo a fare un lavoro tutti insieme, insomma, viene qualcosa di fatto meglio, no? Ovviamente. Quindi lasciate qui sotto dei commenti dove mi dite guarda, io l'ho preso questo manuale, mi è piaciuta questa cosa, potresti magari spiegarmi meglio questa roba qua, oppure mi interesserebbe capire, forse se ci fosse una parte in più su questo. Cioè, ragazzi, a me fa tantissimo piacere questo e per favore fatelo, ma soprattutto, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, fate capire a YouTube che i video che pubblico sono di vostro interesse. Come ultimamente state facendo, vi ringrazio di cuore quei video da 10, 15, 20 mila visualizzazioni, per me sono una grande soddisfazione. E noi, come sempre, ci vediamo il prossimo martedì. E tutti i giorni con i video di studio. Ciao!